In grande stile al Circolo Unione di Pagani l'inaugurazione della terza edizione della stagione concertistica promossa dall'antico Sodalizio. Sul palco l'orchestra diretta dal maestro Giulio Marazzia, un giovane appassionato di musica classica che si è imposto l'ambizioso obiettivo di coinvolgere nel bel canto artisti giovani come lui. Un certo per violino e orchestra di Jean Sibelius che avrà come solista Fabrizio Falasca e nel secondo tempo la celeberrima quinta sinfonia di Ludwig van Beethoven. Questa è la terza edizione che ci dà il piacere di ospitare l'ensamble contemporaneo con il maestro Giulio Marazzia. Iniziamo stasera questa terza rassegna per terminarla a marzo con musiche di Battisti e Mina. Grazie a tutti.